Oggi le opposizioni hanno votato il presidente della commissione di vigilanza Rai. Sapete che le commissioni di vigilanza e di garanzia sono delle commissioni che vengono assegnate proprio come presidenze alle opposizioni. Quindi le opposizioni, chi hanno scelto come presidente, come uomo di garanzia per la vigilanza Rai? Un ex uomo Mediaset. Quindi hanno votato un ex collega di Mediaset. Era assunto fino a pochi mesi fa. Allora, noi ci auguriamo che Baracchini, si chiama così Alberto Baracchini, faccia il suo lavoro nella maniera più trasparente, libera e limpida possibile negli interessi degli italiani e non nell'interesse di Mediaset. Perché noi vogliamo una Rai completamente fuori dai radar dei partiti. Una Rai libera, una Rai per i cittadini. Una Rai anche libera da tutte le società di appalti esterne che finora hanno ingolfato i lavori di questa grande azienda culturale del paese.